Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzini questo nuovo video vi spiego come mettere così il simbolo del quadrato quindi 8 al quadrato su pc quindi in questo caso puoi semplicemente scrivere per esempio mettiamo il 2 oppure mettiamo il 3 mettiamo il 2 evidenzia così il 2 e sulla tastiera premi tieni premuto il tasto alt alt sulla tastiera e poi vai a schiacciare così i numeri sul tastierino numerico facendo 0 178 ok alt più 0 178 questo era il primo metodo come secondo metodo c'è il character map map caratteri ed eccolo qua ed ecco il 2 ed ecco il 3 quindi il 2 fai selezione fai copie e fai incolla ok e fai incolla stessa cosa anche con il 3 fai copia seleziona quindi 3 seleziona copia e lo metti qua ok quindi se questo video è stato utilissimo su come mettere questo simbolo al quadrato pc iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao